E dopo l'annuncio della soluzione quindi della crisi di giunta con nove assessori, ieri come un fulmenaccio al sereno Cristina Zen ha dichiarato di non voler assumere questo ruolo. Però Giuliana Topazzo invece ha risposto all'appello, un dovere nei confronti della cittadinanza è così? Certo, ha un senso di responsabilità nei confronti del cittadino che comunque ci ha votati e che ha bisogno di un passo di andare avanti, di fare un salto di qualità, di chiudere questa faccenda che ormai si sta trascinando da troppo tempo e quindi abbiamo bisogno veramente di ricominciare, di ricominciare bene come dei bazooka insomma e speriamo che questo ci aiuti insomma a migliorare le cose, a portare avanti quello che era il nostro pensiero di città di Biella. Allora senta, lei è un medico, svolge un ruolo di grande responsabilità? Assolutamente sì, anche perché la nostra città come dico, il nostro territorio ha assolutamente bisogno di migliorare anche dal punto di vista sanitario. Abbiamo una direzione in gamba che si è ritrovata ovviamente di fronte a una serie di problematiche nate ovviamente in precedenza, di difficile risoluzione, ma dobbiamo cercare di trovare il modo per poter migliorare quella che appunto la qualità della nostra sanità che era già alta, grazie alla professionalità ovviamente di tutti i colleghi, ma soprattutto dobbiamo proprio ricostruire quello che è il nostro territorio in virtù delle necessità della nostra popolazione. In bocca al lupo, buon lavoro. Grazie mille, grazie. 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 Grazie.